con una troica privata per strade vicinali osservando il più rigoroso incognito piotr paulovic possudin s'affrettava verso la cittaduzza distrettuale di enne dove lo chiamava una lettera anonima da lui ricevuta sorprenderli come una tegola sul capo pensava egli nascondendo il suo viso nel bavero han fatto un mucchio di infami agli sporcaccioni e trionfano scommetto si immaginano di aver fatto sparire ogni trazza immagino il loro sgomento e la loro meraviglia quando sul più bello del trionfo si udrà si faccia venire qui ti appim li appim sì che succederà uno scompiglio dopo aver fantasticato la sazietà possudin entrò in discorso col suo guidatore l'uomo bramoso di popolarità innanzitutto gli domandò di se e possudin lo conosci come non conoscerlo fece un sorrisetto al guidatore lo conosciamo ma perché ridi che bizzarria conosco fino all'ultimo scrivano e non dovrai conoscere possudin appunto è stato messo qui perché tutti lo conoscevano è così ebbene com'è secondo te bravo non c'è male sbadigliò il guidatore un bravo signore sa il fatto suo non sono ancora due anni che lo erano qua e già ha fatto un mucchio di cose e chi ha fatto di tanto speciale molto di bene ha fatto che dio lo conservi in salute la ferrovia ci ha procurato nel nostro distretto ha mandato via ciocriukov non c'erano limiti per questo ciocriukov era un briccone uno scroccone tutti quelli di prima gli tenevano mano ma arrivò possudin e ciocriukov se ne andò al diavolo come se mai ci fosse stato ecco fratello possudin fratello non lo comprerai no dagliene magari cento magari mille ma lui non si prenderà un peccato sulla coscienza no sia lodi a dio almeno da questo lato mi hanno capito pensò possudin esultando ciò è bene un signore istruito continuò il guidatore non superbo i nostri andarono da lui a lagnarsi ritrattò come i signori la mano a tutti voi sedete così impetuoso pronto una parola insensata non te la dirà ma sempre che ti vada al passo altrimenti dio mio non c'è verso ma tira a far tutto di corsa tutto di corsa i nostri non fecero in tempo a dirgli una parola che lui i cavalli è difilato qua arrivò e regolò tutto nemmeno una copeca prese quanto meglio del precedente certo anche il precedente era bravo di così bella apparenza grave nessuno gridava più sonoramente di lui in tutta la provincia quando veniva si poteva sentire da dieci verste lontano ma se si tratta di rapporti esteriori o di faccenda interne quello di adesso quanto è più abile quello di adesso di cervello in testa ne ha cento volte di più un sol guaio è in tutto un bravo uomo ma c'è una disgrazia è beone eccoti il contentino pensò possudine come sai domandò che io che è un beone certo signoria io personalmente non l'ho mai visto ubriaco non starò a mentire ma la gente lo diceva anche la gente ubriaco non l'ha visto ma sul conto suo corre tale voce in pubblico dove va in visita al ballo o in società non beve mai a casa alza il gomito si leva al mattino si frega gli occhi e per prima cosa bella vodka il cameriere viene porto a un bicchiere e lui ne chiede già un altro e così tracanna tutto il giorno dimmi di grazia beve e non un occhio lo vede dunque sa dominarsi quando si metteva a bere il nostro ciocliukov non soltanto gli uomini ma perfino i cani urlavano possudine invece almeno gli si arrossasse il naso si chiude nel suo studio e lappa perché la gente non se ne accorgesse si è fatto adattare nella scrivania un certo cassetto con una cannuccia in quel cassetto c'è sempre della vodka si china sulla cannuccia succhia un poco ed è ubriaco in carrozza pure nella borsa delle carte come lo sanno si sbigò tipo sudin dio mio perfino questo è noto che schifezza e anche per quanto riguarda il sesso femminile ecco un briccone il guidatore si mise a ridere e crollò il capo uno sconcio e basta ne ha una decina di quelle zirandole due gli abitano in casa una quella natassa ivanovna è da lui come a dire in luogo di amministratrice l'altra come si chiama diavolo l'idmila semionovna a modi scrittuale più importante di tutta è nastassia ciò che questa vuole lui lo fa sempre lo fa girare come la volpe la coda grandi poteri le furono dati e non hanno tanta paura di lui come di lei e la terza zirandola abita in via cacalneia uno scandalo perfino di nome le conosce pensò possudin arrossendo e chi poi le conosce un contadino un vetturale che non è neanche mai stato in città che infamia è una schifezza una trivialità ma tu come sai tutto questo domandò con voce irritata la gente lo diceva io stesso non ho visto ma ho sentito della gente ma che è difficile saperlo a un cameriere o a un cocchiere non taglierai la lingua la stessa anastasia se ne va per tutti i chiassuoli e si vanta della sua fortuna di donna agli occhi della gente non ci si nasconde ecco ha preso anche il vezzo questo possudin di andare in ispezione alla chitichella quello di prima quando voleva andare in qualche posto lo faceva sapere un mese avanti e quando viaggiava tanto di quel chiasso fracasso e scampanio ce ne preservi il creatore davanti a lui si galoppava dietro a lui si galoppava ai fianchi si galoppava giunto sul posto faceva una buona dormita mangiava e beveva sazietà e avanti a sbraitare per le cose di servizio sbraitava un poco e stava un po' coi piedi faceva un'altra dormita e con lo stesso sistema tornava indietro quello di adesso invece come sente dire qualcosa cerca di partire di soppiatto in fretta perché nessuno veda ne sappia è uno spasso esce inosservato di casa in maniera che gli impiegati non lo vedano e via in treno arriva alla stazione che gli occorre e non già dei cavalli di posta o qualcosa di meglio ma di un contadino cerca di noleggiare si avviluppa tutto come una donna e per tutta la strada borbotta rauco come un vecchio cane perché non riconoscano la sua voce cerca semplicemente di strapparsi le butelle dal ridere quando la gente racconta viaggia il babbeo e crede che sia impossibile riconoscerlo e riconoscerlo per uno che se ne intende è come sputare una volta ma come fanno a riconoscerlo è semplice sai prima quando viaggiava alla chetichella il nostro choklyukov noi lo conoscevamo dalle sue mani pesanti se il passeggero ti picchia sui denti vuol dire che quello è choklyukov ma possudi non lo si può scoprire subito un semplice passeggero si comporta anche semplicemente ma possudi non è fatto per osservare la semplicità arriva mettiamo in una stazione di posta e comincia per lui c'è puzzo e si soffoca ed è freddo a lui servi pure pollastrini e frutta e conserve da ogni sorta così alle stazioni lo sanno se qualcuno d'inverno chiede pollastrini e frutta quello è possudin se qualcuno dice al mastro di posta carissimo e fa correre la gente per varie bazecole si può giurare che c'è possudin e non manda l'odore dell'altra gente e si corica alla sua maniera si stende alla stazione su un divano intorno a sé spruzza profumi e ordina di porre accanto al guanciale tre candele sta coricato e legge delle carte qui poi non solo il mastro di posta ma anche un gatto raccapezzerà che uomo è quello è vero è vero pensò possudin e come mai prima non lo sapevo ma quello a cui occorre lo riconoscerà anche senza frutta e senza pollastrini per telegrafo tutto è noto comunque ti imbaccucco il grugno comunque ti nasconda qui tutti già sanno che vieni aspettano possudin non è ancora uscito di casa sua e qui ormai favorisci tutto è pronto lui arriva per coglierli sul fatto mandarli sotto processo sostituire qualcuno e sono loro a farsi beffe di lui anche se tu eccellenza dicono sei arrivato al chitichella guarda pure da noi tutto è pulito lui si rigira si rigira poi se ne va come è venuto e li loda anche stringe le mani a tutti chiede scusa per il disturbo ecco com'è e tu che cosa credevi oh signoria la gente qui è furba uno più furbo dell'altro fa piacere veder che razza di diavoli sì ecco prendiamo anche solo il caso odierno me ne vado stamane senza carico e dalla stazione mi vuole incontro un giudeo il credenziere dove va domando o signoria giudaica e lui dice porto vino e antipasti nella città di enne là oggi aspettano possudin furbi è possudin forse si prepara ancora soltanto a partire o si avviluppa la faccia perché non lo riconoscano forse già in viaggio e pensa che nessuno sa che gli viene e già per lui dimmi di grazie sono pronti e vino e salmone e formaggio e antipasti svariati lui viaggia e pensa va male per voi ragazzi e ragazzi se ne infischiano venga pure da un pezzo ormai hanno nascosto tutto indietro gridò rauco possudin torna indietro bestione e il guidatore meravigliato voltò indietro grazie a tutti